La Grecia è di nuovo in campagna elettorale. Manca la conferma ufficiale, ma secondo fonti di stampa, le elezioni anticipate si terranno il 20 settembre prossimo. Intanto ad Atene il nuovo governo tecnico è già al lavoro dopo aver prestato giuramento. Per la prima volta alla guida c'è una donna, la Presidente della Corte Suprema, nominata primo ministro ad Interim. Una squadra che rappresenta un ampio scetro politico del paese. Abbiamo molto da fare sul controllo delle imposte fiscali, ha dichiarato il vice ministro delle Finanze, ma dobbiamo attuare il processo di transizione istituzionale. Tra piani di salvataggio, misure da austerity e l'emergenza in migrazione, il paese guarda il futuro con speranze e incertezze. Tra le nostre priorità c'è sempre la politica europea, ha dichiarato il ministro incaricato per l'emigrazione. Dobbiamo andare avanti con quello che ha deciso il Presidente della Repubblica. I problemi, certo, vanno risolti a livello internazionale. Intanto i depositi bancari di famiglie e imprese sono calati di 1,4 miliardi di euro nel mese di luglio. L'ex premier Alexis Tsipras, alle prese con un calo di consensi del suo partito, si dice convinto che il popolo darà comunque un messaggio forte. La questione principale al centro del dibattito resta il terzo programma di salvataggio, come fa notare la nostra corrispondente ad Atene, ma anche come il nuovo governo che uscirà dalle urne attuerà quelle misure impopolari e quelle riforme necessarie per la Grecia. Apo di Nathena, per i Euro News, F. Kuccio Kosta.